Ma vi altri che vi senti la storia dell'idola foeonica? Si è girata per tutto quindi penso proprio di sì. Sti qua saranno dentro un gabbiotto due cigagne che già da cercare qualcosa. E una si è partita a sigare come il maschio che vede il massador capito? Mi sarei venuto a dir che sta tranquilla che toccherà anche a ti se nemmo vanti così. E i minoranze saranno le prime a diventare paston poi per sei. Quindi tiente i sberighi per quando che sarà ora. Ma ha roba che nessuno ha detto. Nessun tei giornale che ne ha parlato. Ma sti qua! Gai cattà quello che li cercava!